E qui abbiamo un attore che si chiama Raffaele, che avrà a che fare con Marina, ma non posso dirvi. Non anticipiamo niente. Marzio! Marzio, è passato Marzio. E lì in fondo troviamo Riccardo Polizzi, il nostro produttore artistico che è Fabio Sardone. Che cacchio si devono dire questi due? No, ma vabbè, solo perché sei entrato con... Vai Riccardo! Che cosa facciamo? In questo momento è nelle vesti di Ferri, perché vedi come stanno. Abitualmente io vesto diversamente. Casual. Vesto casual. Adesso sono così. Punto. Punto. Oh, l'ha detto lui, quindi... Andiamo. Che meravigliosa villa, eh? Lui è Alfonso. Lui è il boss, diciamo, del set esterno. Se lui dice qualcosa noi dobbiamo, come dico, rispettare i suoi comandi, vero Alfonso? Là ci sono i miei boss. Vedi? I suoi boss sono là. La tua boss? Ah, i bambini! Guarda! Ci sono i miei bambini! Ci sono i miei bambini!